Per i brani musicali siamo ad un brano e ad un solo molto famoso che ha fatto anche lui storia nel campo della musica popolare, nel campo del rock. Mark Knopfer ancora, il brano è In the Gallery, è la solo finale di In the Gallery. In the Gallery. In the Gallery. In the Gallery.